Musica Amiche e amici di Rossini TV, oggi vi portiamo in teatro, cioè perlomeno, vi portiamo verso il teatro, o meglio vi portiamo verso il festival. Lo facciamo con Cristian Della Chiara. Ciao Cristian! Ciao Paolo, buongiorno e buongiorno a Rossini TV e a tutti gli spettatori. Cristian, qui passano gli anni, noi facciamo finta di niente, ma qui passano gli anni, siamo sempre noi però, siamo sempre qui e siamo sempre pronti. Che non so se è una buona notizia, però per noi lo è, quindi speriamo che lo sia anche per il pubblico. Ma sì, allora noi siamo oggi qua di nuovo a raccontarvi e ad avvicinarci con questa trasmissione che abbiamo battezzato verso il festival, a avvicinarci e a raccontarvi la 76esima edizione del Festival dei Gatti. 76 edizioni, qualche succosa novità per aprire? Innanzitutto col numero che metti i brividi. 76, credo che siano poche le manifestazioni in Italia che abbiano un'origine così lontana e che godono di ottima salute come gode il nostro festival. Lo dimostrano le 117 richieste di ammissione al concorso, che è un po' l'evento principale, ma come avremo modo di scoprire non l'unico evento, di un festival che è sempre più, diciamo, nella sua dimensione di festival appunto. Per cui nel concorso ci sono tante altre cose, che arricchiscono due settimane, tutte dedicate al teatro, e appunto i numeri dicono che è un festival che non ha solo tanti anni, ma anche tanto seguito, tanto interesse. Come sempre abbiamo abituato i nostri telespettatori a questi inizi folgoranti, non solo per quanto riguarda verso il festival, ma in tante altre occasioni, nei quali entriamo a bomba, poi dopo spieghiamo di cosa stiamo parlando. Perché qualcuno potrebbe anche dire, ma di cosa parlano? Sti due, chi sono? Allora, Cristian Della Chiara, direttore artistico, dimmi la qualifica esatta. Era giustissimo. Direttore artistico dell'Associazione Amici della Prosa, che organizza, tra le altre cose, il Festival Nazionale d'Arte Drammatica, giunto alla settantasesima edizione. Perfetto. Il Festival Nazionale d'Arte Drammatica è un festival unico ormai quasi in Italia in quanto a longevità sicuramente, ma con la particolarità appunto di mettere in rassegna, ma in concorso, in gara, le compagnie amatoriali, chiamate così, che poi in realtà, andandole a vedere di amatoriale, hanno solo che probabilmente gli attori non sono pagati, perché sennò per il resto il livello è praticamente dalle parti del professionismo. Sì, perché è un movimento che, come dicevo, raccoglie qualche migliaia di compagnie in tutta Italia e il fatto di rappresentare noi un po' il festival di riferimento di questo movimento, abbiamo il privilegio di poter selezionare il meglio che questo movimento produce. Quindi la qualità degli spettacoli spesso ha poco a che invidiare dagli spettacoli fatti dai professionisti. La nostra trasmissione da un po' di anni si propone appunto di creare dei momenti di avvicinamento al festival e lo fa tramite questa chiacchierata introduttiva, faremo tre puntate, questa chiacchierata introduttiva con Cristian della Chiara e poi vi proporremo ogni volta una commedia che è stata scelta, selezionata dal Consiglio Direttivo in collaborazione anche con la redazione perché ricordiamo che essendo materiale da trasmettere in televisione è necessario avere un livello qualitativo alto ovviamente, anche se poi ne parlavamo anche l'anno scorso ma quest'anno probabilmente, passato un anno, non sarà passato in vano, in effetti la qualità si sta alzando un po' perché cominciano a sapere che queste commedie vengono viste anche in altri modi che non sono semplicemente solo quelli della commissione selezionatrice ma un po' anche perché lavorare bene sulla qualità dei video è anche un bel modo per ingraziarsi un po' la commissione. È un bel modo, a volte è anche una piccola trappola perché poi a volte a un grande video non corrisponde anche un pari livello dello spettacolo, di fatto sono due spettacoli diversi, quello che vedi nel video e quello che poi vedi a teatro, quindi la commissione a volte si prende anche dei piccoli rischi, però di si bene la qualità anche dei video è migliorata, un po' perché si augurano poi di essere trasmessi in televisione un po' anche perché piano piano si stanno tutti abbandonando il DVD per affidarsi a formati video più evoluti quindi la qualità proprio della, non solo della ripresa ma anche della qualità tecnica del video è sempre migliore. La selezione è fatta sia dal festival ma anche dalla televisione perché vogliamo ricordarlo che Rossini TV è media partner del festival, quindi è a pieno titolo e entra anche nella scelta artistica degli spettacoli da mandare in onda. Ci mettiamo tutto l'impegno per farvi venire voglia di andare a vedere perché poi comunque ricordiamo che alla fine hai voglia di vederlo in televisione, hai voglia di vedere il trailer, hai voglia di parlarne ma quello che conta è poi prendere e andarci in teatro. Il teatro va visto a teatro dal vivo, tutto il resto è un modo di creare un'attesa per vivere poi l'evento come va visto. Tra l'altro mi permetto, non so se tra gli appunti l'avevi mai parlato di trailer, Rossini TV non solo è media partner ma anche è il soggetto assieme al quale abbiamo inventato un concorso nel concorso, anche quest'anno sarà proposto il concorso dei trailer, tutti gli spettacoli che partecipano quindi al festival, che sono in concorso al festival hanno mandato un trailer che verrà messo in onda sui TV e sui canali social di Rossini TV, verrà votato e quindi tra i vari premi verrà assegnato anche quello di Rossini TV al miglior trailer degli spettacoli. E se è vero che il video integrale spesso è il tentativo di abbellire però qualcosa che è comunque da rappresentare il trailer invece è un prodotto squisitamente televisivo cinematografico. Assolutamente sì. Per cui alle volte è fatto con degli spezzoni ma alle volte è proprio anche qualcosa di assolutamente a parte, che sono in voglia, deve in voglia. C'è piena libertà creativa nel confezionare il trailer che come dici tu può essere sia un estratto dello spettacolo ma può essere anche tutt'altro e gli anni passati ci hanno dato prova di questo e è bello vedere come le compagnie si sbizzarriscono anche nel creare prodotti originali. Allora, l'abbiamo fatto un po' lunga prima di entrare in questo argomento però adesso è ora di arrivare al punto dove si tiene il Festival dei Gads 76e edizione quest'anno? Beh, un indizio c'è alle nostre spalle se non sbaglio. Ma lì si capisce ma sai potrebbe essere solo scenografia del green screen va a capire no? Invece no, non è solo quello perché il festival ritorna in quella che è la sua casa naturale da oltre 70 anni torniamo al Teatro Rossini in qualche modo assieme alla stagione di prosa che ci anticipa di qualche giorno inauguriamo la riapertura invernale del teatro che a conti fatti in realtà manca dall'anno prima della pandemia perché in questo periodo il Teatro Rossini è stato aperto solo per il Rossini Opera Festival dell'anno scorso se non erro perché poi la stagione invernale già dal 2020 si è interrotta per cause che conosciamo bene poi si sono avviati i lavori che si sono interrotti solo per una piccola finestra l'anno scorso quindi mi pare che sia una festa anche per quello un ritorno nella casa del teatro più importante della nostra città nella sua veste autunnale, invernale quindi siamo anche contenti di contribuire a questa festa. Mancano ancora alcuni giorni all'apertura, all'avvio, all'inizio però io direi di lanciare la proposta dei biglietti e degli abbonamenti sin da subito perché a maggior ragione siamo al Teatro Rossini, insomma l'opportunità è ghiotta L'opportunità è ghiotta, il 2 ottobre inizia la campagna abbonamenti e poi a seguire anche la possibilità di acquistare i biglietti la biglietteria è quella del Teatro Rossini ma i biglietti saranno in vendita anche sul circuito Viva Ticket quindi si possono acquistare anche comodamente da casa tra l'altro quest'anno proprio per festeggiare questa riapertura e questo connubio con la stagione professionistica di Amat che sta registrando numeri importantissimi per quanto riguarda il gradimento una stagione tra l'altro importante, una stagione capitale 10 spettacoli perché tutta la cultura pederese concorre a creare l'attesa per questo grande anno che sarà il prossimo anche il Festival GAD vuole partecipare a questa festa e quindi agli abbonati della stagione di prosa di Amat mi hanno offerto la possibilità di, con il solo pagamento della tessera associativa all'associazione quindi 30 euro, di avere un abbonamento maggio proprio per allargare il più possibile la platea che è già ampia fatta dai giovani, giovanissimi che sono il nostro pubblico di riferimento ma veramente volevamo battezzare questo ritorno al Teatro Rossini con una festa il più ampia possibile condivisa con un numero maggiore di persone e quindi insomma un gesto importante credo dell'associazione è mettere a disposizione questi abbonamenti a tariffe già sono molto economici, in questo caso addirittura regalati Allora, la giuria Presidente, quest'anno l'avete scelto tra un personaggio molto conosciuto e molto amato e apprezzato dal pubblico pesarese questo Antonio Caponigro del Teatro dei Dioscuri di Campagna Salerno più volte premiato, applaudito L'anno scorso abbiamo pensato a questa cosa che devo dire è stata molto apprezzata come idea è un movimento che annovera grande personalità di grande valore, di grande spicco e ci è piaciuto attingere a queste personalità anche per la giuria e quindi, così come l'anno scorso Massimiliano Giacometti, pluripremiato regista della Compagnia Teatro Villaggio Indipendente di Torino ha preso una pausa dal suo ruolo di concorrente ed è venuta a presiedere la giuria quest'anno un altro pluripremiato del nostro festival tra l'altro a memoria uno dei rari o rarissimi casi in cui una compagnia vince per due anni di seguito perché nel 21 e nel 20 Caponigro vinse per due anni di seguito con un suo spettacolo quest'anno sarà presidente di giuria quindi una personalità di grande valore nell'ambito del nostro mondo che chiamiamo a presiedere una giuria composta poi da altre personalità invece della cultura locale che arricchiranno una giuria sempre molto competente ovviamente lui non sarà presente in concorso ovviamente no per ovvi motivi ovviamente no era già, non avevano già presentato neanche la candidatura oppure strada facendo vi siete resi conto che poteva diventare lui presidente di giuria in quanto non? no, diciamo che era nei miei radar perché ne aveva tutte le caratteristiche però se avesse presentato candidatura l'avrei immediatamente scartato perché non mi sembrava carino non solo ovviamente che non fosse fra i selezionati ma anche fra i non selezionati quest'anno per sua scelta non è che gli avevo chiesto niente è venuto benissimo non l'ha presentato ma poi gli ho chiesto anche perché non l'ha presentato ed è anche un motivo bello perché dopo aver vinto per due anni di seguito mi ha detto ed è una cosa che mi hanno detto tanti partecipanti che sentono una grande responsabilità ora verso il festival e quindi si ripresenteranno quando saranno consapevoli di avere uno spettacolo di livello che riterranno adeguato e questo mi richiama un concetto che spesso diciamo ma di cui questa confessione ne è la prova i 117 spettacoli in realtà sono tantissimi ma sono già frutto di una selezione l'autoselezione che fanno le compagnie decidendo di presentarsi a Pesaro solo se pensano di avere uno spettacolo di livello elevato quindi 117 è già una prima selezione 8 è la seconda la giuria farà l'ulteriore selezione che determinerà il vincitore perché non c'è un criterio ancora precedente cioè diciamo qualunque compagnia comunque può presentare la sua candidatura non ha bisogno di avere un curriculum di avere un pregresso di avere... no nel senso che il bando tra l'altro una delle cose che ho fatto nei miei ormai tanti anni di direzione artistica è stato quello di rimuovere il più possibili vincoli che una volta erano tempi diversi quindi c'erano vincoli sulla durata su alcune caratteristiche degli spettacoli ora sono stati tolti praticamente tutti tant'è che anche la durata degli spettacoli tendenzialmente si è accorciata si possono presentare monologhi spettacoli di vario genere quindi tutto fa parte del nostro concorso le compagnie che si iscrivono devono mandare delle note curricolari a altro però quello che valuta la commissione è fondamentalmente solo lo spettacolo bene, mi sa che ci siamo più o meno perché quando cominciamo a fare le nostre chiacchierate ci fermeremo mai per fortuna, questa è solo la prima perché ce ne sono altre due di puntate diverso il festival per cui a questo punto per tutte le altre domande gli appunti, le curiosità magari anche che qualcuno ha da casa sappiate che le interpretiamo tutte e le scarichiamo tutte su Cristian che ci racconta tutto quello che io poi chiederò nelle prossime puntate però permettimi solo una cosa abbiamo detto che il festival inizia il 17 ma il 17 inizia il concorso ci saranno delle anteprime la prima anteprima sarà il 9 ottobre quindi bisogna attrezzarsi subito a trovare spazio per frequentare il festival parlaci di questa anteprima e poi salutiamo allora l'anteprima è una doppia anteprima ti ringrazio di averlo chiesto perché è un doppio appuntamento particolarmente intenso da qualche anno l'associazione Amici della Prosa organizza anche il festival di poesia Vaga e Stelle dell'Orsa ideato e curato da Laura Corraducci allora proprio per enfatizzare ulteriormente questo legame abbiamo scelto di aprire con un'anteprima al festival proprio con un appuntamento speciale di Vaga e Stelle dell'Orsa quindi Laura Corraducci ci proporrà una puntata speciale dedicata a Marlene Dietrich un grandissimo personaggio ma che scopriremo essere anche poetessa accompagnata anche dalla voce di Frida Neri che accompagnerà con il suo canto appunto l'escursus di Laura Corraducci sulla poesia anche di Marlene Dietrich questo appuntamento alle 18 sala della Repubblica del Teatro Rossini sarà seguito da un altro appuntamento molto importante sempre il 9 ottobre ma questa volta alle 21 sempre in sala della Repubblica il 9 ottobre è l'anniversario dei 60 anni della tragedia del Vaillant e in tutta Italia per volontà di Marco Paolini che ha scritto un famosissimo lavoro teatrale proprio sulla tragedia del Vaillant verrà organizzato un momento di teatro impegnato collettivo in tutta Italia quindi ci saranno migliaia di rappresentazioni di questo testo anche a Pesaro abbiamo aderito a questo progetto assieme al Comune di Pesaro Amat, Le Voci dei Libri Lente Olivieri Università dell'Età Libera insomma tanti soggetti che si sono messi assieme per fare questo momento di teatro sociale una lettura collettiva del testo di Marco Paolini Vaillant che terminerà poco dopo le 22 quando ricorrerà l'esatto minuto in cui si scatterò la frana della tragedia appunto della diga del Vaillant con tutto quello che poi ahimè ne consegui quindi siamo molto contenti e orgogliosi di partecipare a questo momento di teatro collettivo l'invito a essere con noi quindi già dal 9 ottobre con questo doppio appuntamento Sala della Repubblica del Teatro Rossi Perfetto non poteva esserci miglior conclusione o meglio miglior lancio per la commedia che adesso andiamo tutti insieme a vedere scelta ripeto dalla redazione dal consiglio direttivo dell'associazione Amici della Prosa e dalla redazione di Rossini TV grazie a tutti noi comunque ci vediamo con la seconda puntata di Verso il Festival per avvicinarci alla 76esima edizione del Festival dei GAD Cristian grazie grazie a voi e a risentirci 76esimo Festival Nazionale di Arte Drammatica al Teatro Rossini dal 16 al 29 ottobre torna il Festival GAD la più antica e seguita rassegna di teatro non professionistico in Italia 8 spettacoli in concorso 2 spettacoli per ragazzi e 4 eventi speciali 2 settimane per ridere piangere ed emozionarsi vivi la magia del teatro assieme a noi 5 spettacoli in Italia 5 spettacoli in Italia 5 spettacoli in Italia